L'obiettivo è quello di salvaguardare la biodiversità di un territorio di grande rilievo e bellezza storica, artistica e ambientale, ma allo stesso tempo promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia della valle. Parliamo del secondo maggior fiume del sud Italia, Ofanto, sorge in alta Erpini e sfocia nel mare Adriatico, dopo aver attraversato tre regioni, la Campania, la Basilicata e la Puglia, e ben 51 comuni e quattro province, da Avellino a Potenza, Foggia e Barretta a Andiatrani. La sfida con la proposta di legge da parco regionale a parco nazionale è quella di rendere sempre più visibile e stimata l'area per il suo sviluppo turistico ed ecosostenibile. Adesso con questa legge, oltre alla tutela, ma anche la possibilità di valorizzazione, perché a questo punto c'è anche quella possibilità di poter utilizzare delle risorse europee, perché appunto ci saranno delle direttive europee che sovraintenderanno, ma poi anche la questione più importante è che finalmente, dove tutti e tanti enti oggi sovraintendono il fiume, ci sarà finalmente una regia unica, cioè una governance che metterà insieme tutti questi enti e quindi anche la tutela stessa, lo sviluppo del fiume Ofanto, possono essere oggi e diventare una realtà.